Signore e signori, benvenuti a una nuova rubrica di Biliardo 32 Giochi impossibili, la sfida Michele Iagnelo ci presenterà questa sfida che lui eseguirà Troppo semplice Una barriera, la palla nera e la nostra bianca Obiettivo, superare la barriera e buttare dentro quella balladetta nera Sei pronto Michele per questa sfida? Semplice no? La concentrazione sul suo volto, vediamola È pronto? Tra te il respiro? Signore e signori, Michele Iagnelo, sfida eseguita Sfida riuscita! Un saluto da tutti voi, da Giorgio Gaggini e Michele Iagnelo Alla prossima!